Mi chiamo Alessia, a sette anni ero una bambina felice, poi qualcosa è andato storto e un vortice negativo mi ha inghiottito. Tu non ti farai mai rispettare da nessuno. Il 4-4-84 è morto mio padre e ora, 35 anni dopo, ho deciso che era arrivato il momento. Da questo momento siete miei nostalgici, mi conviene fare tutto quello ritrovo. Che ci ha convocato tutte e cinque alle tredici prima dell'orario di chiusura delle poste? Ci ammazza tutti, ci ammazza tutti! Che se Freddy fallisce, devo andare io da sola a matare s'assessina. Emo, sai sei una pazza scatirata. E col qua di gente come voi, se esistono persone come me... уют... o Grazie a tutti.